Gli agenti del commissariato di polizia di Fano hanno effettuato nell'ultimo periodo diversi servizi nella città mirati al contrasto dei reati contro il patrimonio. Gli agenti coordinati dal dirigente Stefano Seretti e in collaborazione con la polizia locale hanno effettuato numerosi posti di controllo nelle principali arterie cittadine con lo scopo di prevenire la piaga dei furti in abitazione e dai danni degli esercizi commerciali. L'attività svolta nel suo complesso ha consentito di individuare e denunciare alle autorità giudiziarie 12 soggetti per i reati di furto aggravato e ricettazione. In particolare nel corso delle operazioni sono state rintracciate due donne di nazionalità italiana che avevano effettuato un furto all'interno di una farmacia del centro storico asportando confezioni contenenti creme per un valore di oltre 600 euro poi recuperate dai poliziotti. I controlli hanno anche portato inoltre a rintracciare e fermare un cittadino italiano sorpreso a bordo di un autoveicolo rubato a Fano pochi giorni prima mentre uno straniero proveniente dall'est Europa è stato trovato in possesso di un cellulare rubato. Particolare attenzione è stata rivolta presso la principale area commerciale fanese in località Bellocchi dove in collaborazione con le agenzie private di sicurezza sono stati identificati sette soggetti sia italiani che stranieri che avevano trafugato diversi beni tra cui capi di abbigliamento, utensili e materiale da bricolage. In particolare alcuni di loro avevano operato all'interno del Brico Center. Nell'ultimo periodo Brico Center è stato soggetto a un numero abbastanza considerevole di furti. Gli oggetti interessati a questi furti sono principalmente prodotti dei reparti utensileria piuttosto che elettricità e attrezzi per l'utilizzo qualunque ma anche prodotti più costosi come ad esempio trapani avvitatori e dispositivi per l'utilizzo del bricolage. Brico Center è molto ferma nella posizione di voler denunciare tutti quelli che vengono colti appunto in fragranza di reato proprio perché questo va a sottolineare come per noi la cura, la tutela del patrimonio sia un elemento fondamentale. Grazie anche a una coordinazione e grazie all'impegno delle forze dell'ordine siamo riusciti anche a portare a segno diversi fermi dove i soggetti che appunto hanno perpetrato il furto sono stati identificati grazie al pronto intervento delle forze di polizia e di carabinieri alle quali va il mio sentito grazie anche a nome dell'azienda. Tutti e 12 sono stati denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria per i reati di furto aggravato.